Ne parleremo tante volte in queste settimane. Sta arrivando per la prima volta in Sicilia uno spettacolo di livello mondiale, amatissimo in tutto il mondo. Le Cirque du Soleil, che sarà al Palatupparello di Acireale dal 5 al 17 giugno. Guardate alcune immagini veramente straordinarie. Quindi comprate i biglietti in prevendita in tutti i circuiti di prevendita nazionali, perché sarà uno spettacolo incredibile. Saltimbanco di Franco Dragone, la Cirque du Soleil, questo spettacolo veramente incredibile. Guardiamo 30 secondi di queste immagini. Dal 5 al 17 al Palatupparello di Acireale. Vai! Guardiamo il suo palatupparello di Acireale. Pumbala, 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 pumbala. Pumbala, pumbala, pumbala. Pumbala, pumbala, pumbala. Tuffarello Giacirale.